L'inchiesta GESAP consente all'aeroporto Falcone-Borsellino di recuperare credibilità grazie ad un lavoro incisivo effettuato dalla procura di Palermo e dalle forze di polizia. A dirlo il presidente della regione, Rosario Crocetta, che continua «Nell'inchiesta è forte il ruolo di denuncia di Giuseppe Todaro, che io voglio ringraziare a nome di tutti i siciliani. È lui che ha trovato il coraggio di denunciare e di collaborare con le forze di polizia e con la magistratura». Intanto, quello che emerge dalle intercettazioni della sezione reati contro la pubblica amministrazione della squadra mobile è una continua elargizione di consulenze d'oro. La procura di Palermo contesta all'ex direttore generale della GESAP, Carmelo Scelta, arrestato ieri anche di aver pagato un ex comandante dell'Alitalia, Filippo Capuano, per due incarichi inesistenti. E cioè un'indagine sull'incidente che il 24 settembre del 2010 portò un aereo Winget fuori pista all'aeroporto Falcone Borsellino e una irreale sperimentazione per un sistema di frenaggio degli aeromobili. Era per trovare una formula per darti soldi, diceva Scelta Capuano, non sospettando di essere intercettato. Ed era stato Capuano a suggerire la soluzione. Usa il contratto, quello dell'incidente. E con la scusa di cercare le cause dell'incidente il settembre 2010, la GESAP pagò addirittura due volte il consulente. Prima 20.000 euro nell'ambito di un incarico dato direttamente a Capuano. Poi 54.450 euro assegnate alla società dell'ex pilota, la cometa SRL, per fare le stesse cose, tra l'altro me fatte. Così come la stessa società venne incaricata della realizzazione del cosiddetto EMAS, uno strato di calcestruzzo particolare che serve alla decelerazione degli aeromobili in caso di fuori pista. Per l'attività mai svolta furono elargiti 170.000 euro nel 2012.